Il Comune di Montevarchi rilascia la nuova carta di identità elettronica in sostituzione di quella cartacea. Si tratta di una novità importante che interessa tutti i nostri concittadini con nuove modalità per la sua richiesta e il suo rilascio. Per avere la carta di identità elettronica occorre prenotare un appuntamento per telefono al numero 055 910 8246 oppure online attraverso il sito Internet del Comune. La carta viene rilasciata all'Urban Center e all'ufficio in comune di Levane. Ricordiamo che la carta di identità elettronica va richiesta solo al momento della scadenza. Deterioramento o sbarrimento di quella cartacea.